Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Sono Marco, e oggi parleremo di un argomento molto interessante, Bellicom. Se siete alla ricerca di un trampolino di qualità per migliorare la vostra forma fisica, o se siete semplicemente curiosi di scoprire di più su Bellicom, allora siete nel posto giusto. Prima di iniziare, vi invito a cliccare sul pulsante iscriviti qui sotto e adottivare le notifiche, così non perderete mai un nostro video. Il nostro canale offre una vasta gamma di contenuti utili, tra cui recensioni di prodotti, suggerimenti per il fitness e sconti esclusivi, quindi assicuratevi di iscrivervi. Bellicom è un'azienda leader nel settore dei trampolini. Questi trampolini non sono solo divertenti, ma anche incredibilmente benefici per la vostra salute. Bellicom offre una vasta gamma di trampolini, ognuno progettato per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di fitness in modo sicuro ed efficiente. Ora, veniamo al motivo per cui siete qui, lo sconto Bellicom. Sappiamo che l'acquisto di un trampolino può essere un investimento importante, e vogliamo aiutarvi a risparmiare il più possibile. Ecco perché abbiamo un'offerta esclusiva solo per voi, i nostri fedeli spettatori. Questa offerta vi darà uno sconto significativo sull'acquisto del vostro prossimo trampolino Bellicom. Per ottenere il vostro sconto, tutto quello che dovete fare è cliccare sul link che troverete sulla schermata ora e nella descrizione del video. Una volta fatto ciò, verrà visualizzata una pagina con il vostro sconto già applicato. Tutto quello che dovete fare è procedere con l'acquisto e controllare che lo sconto sia stato applicato al momento del pagamento. Ci auguriamo che queste informazioni vi siano state utili. Se avete domande o commenti sullo sconto Bellicom, non esitate a lasciarli qui sotto. Cerchiamo sempre di rispondere a tutte le vostre domande il più rapidamente possibile. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati su tutte le nostre ultime offerte e recensioni. E se vi è piaciuto questo video, per favore, condividetelo con i vostri amici e la vostra famiglia. Grazie mille per aver guardato. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.